Il gruppo Enercom, una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy and Utilities, ha intrapreso negli anni un percorso di certificazione che ha portato a diversi riconoscimenti. Grazie a un approccio sistemico integrato, il gruppo ha recentemente ottenuto la certificazione UniPDR 125 2022 per la parità di genere, confermando il suo costante impegno per la realizzazione di un ambiente di lavoro inclusivo ed equo. Ci definiamo il gruppo del fare e nel fare ci mettiamo anche tutta la nostra volontà per arrivare a definire il processo di certificazione, un processo che nasce sempre da attività interne sviluppate dai nostri collaboratori e quindi verificate poi con enti specialistici perché non ce la possiamo cantare in casa sempre, ma dobbiamo anche confrontarci col mercato e con gente che è molto più esperta di noi. Da questo punto di vista quindi operiamo per definire delle procedure interne, le mettiamo in ordine, le verifichiamo, le definiamo con collaboratori più esperti di noi e arriviamo quindi alla certificazione che è un suggello, una certificazione che attesta la nostra volontà. Sempre in un'ottica di sperimentare la visione dell'esterno rispetto alla nostra realtà abbiamo anche seguito l'opportunità di Choose My Company che è sostanzialmente un soldaggio esterno diretto sui nostri dipendenti per raccogliere le loro opinioni, le loro desiderate, i loro giudizi sulle nostre società. Due società hanno ottenuto entrambe due certificazioni anche a questo livello. Il processo di certificazione basato su un'attenta revisione delle pratiche aziendali e sull'implementazione di indicatori di performance è un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile e l'innovazione continua del gruppo, in accordo anche con le linee guida definite nel bilancio di sostenibilità quest'anno alla sua seconda edizione. Un elemento chiave di miglioramento rispetto all'organizzazione del primo bilancio di sostenibilità dell'anno 2022 è stata l'adozione di un approccio sistemico che ci ha portato a nominare all'interno di ogni consiglio di amministrazione un consigliere con deleghe alla sostenibilità. Prendiamo seriamente il nostro impegno verso l'ambiente e la sostenibilità tant'è che la nostra prospettiva è quella del continuo miglioramento e ogni azione che noi svolgiamo viene valutata in chiave di sostenibilità con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, migliorare il benessere delle comunità in cui operiamo e garantire una governance trasparente e responsabile. Crediamo fermamente che un approccio sostenibile non sia solo un dovere verso il nostro pianeta e le future generazioni, ma anche un'opportunità per creare valore a lungo termine per i nostri stakeholder. Il 2024 per Enercom continua dunque nel segno di un ambiente di lavoro inclusivo, eco e sostenibile.